ciao fra e francesco chini volevo innanzitutto farti questo video per ringraziarti di della persona che sei sia a livello professionale sia a livello umano e ha soprattutto a livello umano perché una persona come te o veramente essere d'aiuto e di supporto agli altri a livello professionale ovviamente non c'è niente da dire più di dire grazie perché sai perfettamente che per tutte le persone con le quali collabori e che ti riconoscono come loro punto di riferimento in vari ambiti sia nell'ambito del marketing nell'ambito della crescita personale ed emotiva beh se un punto di riferimento proprio per le tue qualità e non solo per le tue competenze perché sappiamo perfettamente noi che siamo degli issor iteller soprattutto che il nostro lato umano è sempre più importante del di quello che in realtà facciamo per vivere e queste tue qualità che hanno sempre permesso e ti permetteranno sempre di crescere sempre di più e volevo quindi ringraziarti pubblicamente per quel che fa in generale per ma soprattutto per la persona che sei e per l'aiuto per l'altruismo con il quale ti poni sempre verso gli altri perché se una persona onesta buona trasparente e soprattutto da te di un grande di una grande onore di una grande dignità quindi fra mi raccomando non mollare mai per me sei il top del top ciao mi raccomando studia sempre